Questa intervista nasce dal fatto che in questi giorni a Milano sono cominciate le campagne elettorali per le elezioni comunali, quindi è pieno di volantini dei vari candidati, fra cui anche il tuo, che quando mi è capitato per le mani mi ha colpito per il fatto che uno dei punti del programma è sulla sessualità etica e consapevole, che poi è quello di cui mi occupo, quindi è chiaro che mi ha interessato molto. Prima di tutto, chi sei e cosa ci fa quel punto nel tuo programma? Io sono Stefano Buccello, ho 35 anni, sono un avvocato e mi candido a un consiglio comunale con la lista civica Beppe Sala Sindaco. Faccio politica da tanti anni, ma è la prima volta che ho scelto di mettermi in campo in prima persona. Mi chiedi cosa ci fanno questi punti nel programma? Io trovo assurdo in realtà il contrario, cioè che la politica parli troppo poco di queste tematiche. Alla fine la politica rivolta al bene comune e il sesso fa parte della vita di tutti noi e dovrebbe essere appunto anzi la fonte di piacere per la collettività generale. Penso invece che purtroppo il fatto che se ne parli spesso e volentieri in maniera poco informata e con poca consapevolezza finisca poi per portare dei problemi pratici e anche psicologici a tante persone e penso che nel 2022 sia il caso di superare il miglio evo, per dirtela breve. Purtroppo c'è molta confusione su questo argomento e questa confusione comporta poi una serie di problematiche, dalle malattie a trasmissione sessuale, ai femminicidi, gli atti di buddismo, alla violenza, sappiamo purtroppo come funziona. Io ho studiato la materia, conosco Milano, conosco quello che Milano può fare e penso che la prima cosa, la più importante di tutte sia fare quello che stiamo facendo noi adesso ad esempio, cioè parlarne apertamente, liberamente, senza tabù, senza vergognarsi. A questo punto viene naturale farsi una domanda, cioè bene, sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto, ma perché gli altri non ne parlano in ambito politico? Guarda, credo che ci siano sostanzialmente due ragioni alla base. La prima è che anche gli interlocutori che fanno politica spesso e volentieri non conoscono bene questo argomento e non sanno quani conseguenze possono portare, può portare questo tema sul benessere delle persone, quanta importanza ha. E poi c'è una sorta di, diciamo, imbarazzo a parlarne, vergogna. Quando si affrontano questi temi, partendo dal presupposto che anche gli interlocutori spesso e volentieri non hanno ricevuto nessun tipo di educazione sessuale, finisce che quando si parla con loro bastano lo sguardo, arrosiscono, cercano di evadere la domanda perché appunto sono in imbarazzo. Appunto cose da superare nel 2022 perché sono ormai inconcepibili. Io preferisco, guarda, partire da dei fatti concreti. La scienza ci dimostra ormai che noi passiamo gran parte della nostra vita a pensare al sesso. Il sesso è il motore di tanti nostri comportamenti in generale. Purtroppo poi la cronaca però ci mostra anche come quando questa sessualità venga analizzata, diciamo, vissuta senza consapevolezza, sia foriera di tanti gravi e molteplici problemi. Allora onestamente mi sembra semplicemente normale voler aggiustare le cose, non ci trovo niente di eccezionale. Anzi, a questo riguardo io voglio fare una promessa a cui tengo perché la trasparenza è importante quanto l'informazione e la competenza. Se sarò letto in Consiglio Comunale posso garantire fin da subito che terrò informati tutti i concittadini delle miglioramenti e delle evoluzioni che riusciremo a conquistare in Consiglio e allo stesso modo però anche i nomi e i cognomi di quelle persone che in maniera un po' opportunistica si ostinano a voler ostacolare il cambiamento nel 2022. Effettivamente di solito di sessualità, di sesso, di questo genere di tematiche si parla sempre in maniera molto strumentalizzata, molto opportunistica sempre nella politica. e quindi che reazioni stai ottenendo introducendo questi discorsi con questo approccio però? Guarda, dipende molto dall'apertura mentale degli interlocutori, è sempre una questione di apertura mentale. Io in realtà vedo tanti colleghi che in privato soprattutto mi sostengono, sono d'accordo con queste proposte, per questo penso anche che se entrerò in Consiglio Comunale poi sarà più facile di quello che si pensi ottenere conquiste su questi temi, perché c'è tanta altra gente che la pensa così. Poi evidentemente ci sono sempre i soliti, quelli che ragionano semplicemente per slogan, che mettono al sale per cercare di sollevare le paure della gente, di spaventarle, sono quelli che odio il gender, odio parlare di questi temi perché sono pervertiti, i figli, i bambini, insomma sono le solite macchiette da social network che sbraitano sostanzialmente per scopi diversi da quelli che sostengono di avere e dimostrano in realtà in prima persona che sarebbero i primi a ricavare un gran vantaggio da un po' di serenità affettiva e di poter affrontare questo tema in maniera normale, anche perché soprattutto la sessualità riguarda anche loro, ce l'hanno anche loro una sessualità, quindi non c'è nessuna ragione per chiamarsene fuori. Visto che è nominata la apocalisse gender, si sa che è uno spavracchio, è un tema che viene appunto strumentalizzato per scatenare la paura di solito e cercare di racimulare qualche voto e non c'entra niente con quelle che poi sono veramente le direttive europee invece su un'educazione alla sessualità e all'affettività anche nelle scuole. però visto che queste direttive ci sono, la proposta che stai portando tu in Consiglio Comunale, in che cosa si differenzia dal semplicemente applicare quello che già c'è? Beh intanto bisogna applicarle queste indicazioni, queste direttive, perché ci sono enunciazioni di principio ma non ci sono normative che poi applicano in concreto, quindi la prima cosa che dico è rendiamole realtà, trasformiamole in qualcosa di pratico le indicazioni europee, cosa che non è ancora successa. E poi invito a ragionare sulla circostituzione che è la cosa incredibile che realizzando queste cose, affrontando questo tema in maniera seria, si andrebbe proprio incontro anche a quelle persone che sostanzialmente si definiscono oppositori di questi temi, perché dati alla mano, se prendiamo i dati, noi vediamo che nei paesi in cui c'è più educazione alla sessualità ci sono meno aborti, meno gravidanze desiderate, meno atti di bullismo, l'età media dei primi rapporti sessuali è molto superiore, ci sono meno malattie a trasmissione sessuale, si fanno più figli. Cioè il mondo va nei paesi con più educazione sessuale esattamente nella direzione in cui gli oppositori dicono che vorrebbero che andassero. Loro lo dicono, anche se poi a questo punto c'è da capire se lo dicono su serio o se in realtà diciamo hanno un altro scopo e lo fanno solamente per alimentare il fuoco, perché se veramente tenessero alle cose che dicono dovrebbero essere i primi a sostenere la necessità di una maggiore educazione, una sessualità consapevole. E poi ci sono tantissime iniziative che si possono realizzare da subito, a basso costo, con immediatezza. Un paio di esempi, la Banca Mondiale ha di recente dimostrato che l'omofobia fa perdere alle città il 2% del fatturato. Sarebbe molto meglio riprenderselo secondo me l'esempio, no? Oppure c'è tutto il tema della integrazione nel mondo del lavoro delle persone trans in transizione. Non ci sono procedure per integrare queste persone nel mondo lavorativo con tutto quello che ne consegue. Sarebbe facilissimo anche per un comune creare dei programmi per facilitare questo accesso. E basterebbe poco anche per andare incontro a tutti quelli che si spaventano della presenza per le strade, insomma, non regolamentata dei sex worker. Ma oggi è impossibile regolamentare i sex worker. Quindi se non le lasciano regolamentare i sex worker, allora in che modo si può poi lamentare una persona del fatto che appunto non ci sia un'attività regolamentata, che non paghino le tasse. Quindi sono tante piccole cose che si potrebbero sistemare con un intervento anche minimo e anche a livello comunale. C'è tutto il tema degli adolescenti. Se noi sappiamo che esistono adolescenti purtroppo che vengono perseguitati per il loro orientamento sessuale o anche solo per le persone che amano. Ci sono tanti testimonianze purtroppo anche recenti in questo senso. Lì il comune non può non intervenire. Intervenire da una parte proteggendo questi adolescenti anche se del caso dalle famiglie in cui sono, che a volte sappiamo che sono un problema. E anche magari aiutarli a chiarirsi meglio le idee quando servono. Io non è che non pensi ai bambini, come qualcuno potrebbe criticare. Però penso anche alle 7 mila persone polioamorose che sono a Milano. Penso agli assessuali. Penso ai sapiosessuali. Penso alle 23 mila persone che ogni anno a Milano vanno da un sessuologo perché hanno bisogno di chiarirsi le idee, visto che non hanno abbastanza informazione su questi temi. Sono tutte categorie che oggi sono sostanzialmente ignorate dalla politica e non capisco e non comprendo davvero in realtà perché anche altri miei colleghi non si facciano carico di affrontare questi temi con serietà. Quindi fermi un attimo perché molte delle cose che hai detto, molti di questi temi, fanno in realtà già parte delle istanze per cui combatte tutto l'attivismo LGBTQ+, eccetera, eccetera, da tanti anni. Allora mi chiedo, vale la pena di frammentare per l'ennesima volta un'azione per cambiare le cose anziché lavorare tutti insieme in un'unica lista, in un'unica azione. Onestamente mi sarebbe fatto una bella fatica se insomma avessi preso parte a quello che già esiste, però la realtà secondo me è che il mondo LGBTQ+, seppur conduca battaglie assolutamente condivisibili e meritorie, a volte purtroppo ha la tendenza a isolarsi, al noi contro di voi, a mettere su steccati e a dividere il mondo in buoni e cattivi. E questo prevede sempre che ci sia uno sconfitto da qualche parte. Io sto parlando di una cosa diversa, cioè il sesso riguarda tutti, tutti. Non c'è una persona che non sia completamente toccata dal sesso, anche gli oppositori politici. E quindi in questa visione la vittoria deve essere di tutti, non ci deve essere uno sconfitto o un vincente. È un progresso della collettività che veramente farebbe del bene a tutte le persone. Tutta Milano deve vincere, Milano deve vincere insieme in questo progetto. In questo senso stiamo ragionando con degli esperti per proporre alcune iniziative mirate per fare dei passi in avanti che si possono fare col minimo sforzo, ma senza mettersi nella barricata noi contro di voi. Deve essere una vittoria collettiva perché questo è un tema che interessa a tutti. Parlando di Milano, però va riconosciuto che al di là degli stereotipi da milanese imbruttito, non è proprio una città sensibile agli ideali in generale. Ragiona più col portafogli, su che cosa gliene viene in tasca. E allora, visto che prima parlavi di dati numerici, hai fatto delle analisi e ci sono delle quantificazioni di cosa ci si guadagnerebbe a seguire un programma come il tuo? Sì, i dati ci sono, però si tratta di tematiche, di proposte futuribili che ancora non sono da costruire. Trovo più interessante sfidarti a fare il contrario. Vediamo cosa succede a non cambiare nulla? Cioè lasciare tutto esattamente così come oggi? Perché su questo i dati ovviamente ci sono, solo che si preferisce non parlarne, nessuno ne parla, si svicola l'argomento. Io però gli ho portati i dati, così ti elenco un paio di cose che giudicherai da solo. Mediamente in Italia oggi, una bambina riceve per la prima volta proposte oscene su smartphone all'età di 12 anni. Ok? È vittima di stalking, il 7% delle adolescenti che hanno meno di 17 anni. Superati i 17 anni, questa percentuale diventa il 16%. Il primo rapporto sessuale, un adolescente oggi in Italia ce l'ha mediamente a 15 anni. Dico mediamente, quindi in alcuni casi è anche prima. Ma questo primo rapporto sessuale, visto che non c'è informazione sui temi della sessualità consapevole, normalmente quest'adolescente lo avrà avendo come ispirazione in mente la pornografia che trova su internet. Che sappiamo perfettamente essere estrema, non essere realistica, non essere verosimile e quindi sicuramente comporterà una serie di problemi, anche di natura psicologica in questa ragazzina. Poi c'è il capitolo violenza di genere. Al di sotto dei 16 anni, un adolescente su 10 è stata o è vittima di violenza o di molestia sessuale. Superati i 16 anni, questa percentuale diventa il 27%. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che intanto già oggi, in qualsiasi scuola media d'Italia, quindi anche di Milano, statisticamente ci sono almeno due adolescenti che hanno subito, stanno subendo molestie o violenze sessuali. Superata questa faccia di età, addirittura si sale al 27%, che vuol dire che più di una donna su quattro in Italia oggi ha subito o subisce molestie o episodi di violenza sessuale. Una donna su quattro, se tu vai in giro per strada, su quattro donne che incontri, statisticamente una ha subito violenza o molestia sessuale. Poi non sono tutti stupi penetrativi, va bene, ma solamente in un quinto dei casi lo sono. E tra l'altro lo sono per colpa di chi? Dei partner o degli ex partner, quindi delle persone che teoricamente erano quelle che dovevano essere più vicine a queste persone. Nel 40% di questi episodi si producono anche lesioni fisiche, quindi c'è bisogno di cure mediche per curare queste donne. Ora, sono dati che si giudicano da soli, secondo me. Le donne li conoscono, li conoscono e sanno perfettamente come funziona e in che tipo di mondo vivono. Però mi chiedo anche gli uomini. Cioè, voglio dire, gli uomini terranno in qualche modo alle loro moglie, alle loro sorelle, alle loro figlie, insomma alle donne che vivono con loro tutti i giorni. Dovrebbero iniziare a rendersi conto a che inferno le stanno condannando proprio perché si ignora e non si vuole affrontare il tema di una sessualità normale, consapevole, di cui parlare apertamente, senza traumi. A questi orrori si può porre il rimedio solamente se si inizia dall'educazione, si inizia a parlarne apertamente come facciamo io e te. Se si ignora il problema, se si nascondono questi dati, continueranno a esistere anche domani. Questi dati sono impressionanti e relativi all'Italia in generale, però tutti i candidi per Milano, che effettivamente è una città poco italiana, fa un po' caso a sé, nel bene e nel male. In quest'ottica ci sono delle sfide particolari e dei punti particolarmente dolenti o virtuosi su cui ti concentri o bisognerebbe concentrarsi? Sicuramente Milano è la città più europea d'Italia e quindi da questo punto di vista indubbiamente avanti è meno male. Però il fatto che abbia questa posizione vuole anche dire è protagonista anche di sfide nuove, di qualcosa che c'è solo qui. Ad esempio tutto il tema dell'integrazione molto culturale. Cioè noi abbiamo tantissime comunità che vengono da tante culture e molto spesso purtroppo finiscono a non dialogare tra di loro, a isolarsi una con l'altra. Anche su questi temi sarebbe il caso in realtà di mischiarsi, di parlarne. Io ho in mente una società, una Milano, in cui ad esempio la comunità islamica possa serenamente accettare e introiettare una cultura di maggior rispetto per le donne. E magari in cambio ci darà un po' della sua letteratura d'amore, della sua diciamo poesia erotica che forse l'Occidente si è un pochino persa in questi anni, no? Cioè voglio dire che ogni comunità in realtà, anche ogni minoranza, può apportare qualcosa a questo, diciamo, mettersi in comune, a questi temi, a cercare di mischiarsi tra di noi. Penso ad esempio alla comunità queer. Alla comunità queer, quanto è estroversa, quanto è creativa. O al mondo kinky, tutta la cultura dell'apertura, del confronto, del dialogo, del limite, insomma, del confrontarsi sempre. C'è il tema degli esploratori sessuali, della loro, anche lì, capacità di affrontare, di accogliere il diverso e di affrontarlo in maniera, diciamo, senza respingimenti. Insomma, ci sono tante cose che si possono fare e ogni minoranza può portare qualcosa. Basta voler capire che sono temi che vanno affrontati tutti insieme. Suona tutto molto bene, però qua ti devo fare una confessione. Questa credo che sia la prima intervista in 15 anni che faccio a tema politico, proprio perché ero nauseato da giornalista nel sentire queste strumentalizzazioni, grandi esaltazioni su temi, in realtà, di tutti i generi, che poi però rimanevano promesse elettorali, erano strettamente utilizzate per il vantaggio personale del politicante in questione. E allora senti, proprio detto terra a terra, visto che i politici raccontano balle, perché dovrei fidarmi di questi discorsi? Ora, ti rispondo terra a terra anch'io. Faccio un bel lavoro, sono un avvocato, potevo continuare serenamente a farlo, non ho bisogno della politica per vivere, insomma. Tra l'altro avrei potuto anche fare politica evitando di toccare questi temi, che in realtà tanto facili non sono, sono considerati nei molti tabù e mi mettono anche, se capisci, nel mirino di alcuni benpensanti, che insomma, non guai a parlare di queste cose. Però la verità è che io avrei potuto nascondermi, ma ritengo che sia fondamentale intervenire proprio su queste cose qua, perché uno, come hai visto, ahimè, conosco i dati, e una volta che conosci questi dati, secondo me non puoi non parlarne, non puoi non renderti conto del problema. E poi perché anche io, personalmente, ho sperimentato i benefici che può dare un'educazione alla sessualità consapevole, la possibilità di parlare apertamente di tutti questi temi, e non vedo ragioni per non condividerle con gli altri. Cioè, alla fine, sono tutte tematiche in cui si potrebbe intervenire col minimo sforzo, fare cose concrete, anche a livello comunale, per cambiare completamente la vita di queste persone. E se ha fatto bene a me, io penso che debba essere condiviso questo benessere in generale con tutta la collettività. La cosa migliore, credimi, è parlare così come mi vedi, in maniera trasparente, senza tabù, e confrontarsi. Anche perché, ripeto, ci sono tantissime cose concrete che il comune può fare in questa direzione. E tra l'altro riguardano tutti, anche le persone che apparentemente pensano di non esserne coinvolte, perché in realtà la sessualità riguarda tutti. Nel concreto, quante possibilità di essere letto hai? Quanti pensi di averne? Le possibilità esistono, ci sono e sono concrete. È evidente che per riuscire a realizzare queste cose, però, c'è bisogno dell'aiuto da parte di tutti. Perché l'aiuto non può essere solamente dire sono d'accordo, perché con il sono d'accordo non si cambiano le cose. Il tema vero è che poi le persone fisicamente si prendono la briga di scendere e andare a votare. Perché è proprio votando che si può modificare l'esistente e cercare di dare una spinta in questa direzione. Se altrimenti ci si limita a dire sono d'accordo, ma poi non si fa nulla, si lascia semplicemente spazio a quegli altri candidati che magari fanno parte di un mondo che preferisce reinserire sistemi di censura o tornare a 1.100, 1.200, al medioevo schietto. Quindi il tema è questo, ci vuole un impegno da parte di tutti, non basto io, è la mia battaglia, ma è anche quella di tutti quelli che credono in queste cose qua. Io su una cosa però voglio essere chiaro. Se qualcuno pensa che questi temi non siano importanti, che siano trascurabili, che siano non centrali, possono anche ignorare i dati che ho detto prima, non sono importanti, non mi voti. Io non voglio essere votato da qualcuno che ritiene che questi temi non siano importanti. Non è obbligatorio. Se però qualcuno veramente sente e pensa che sia il momento di cambiare le cose e di farle tutto insieme, bisogna che agisca anche lui, perché dipende da me esattamente come dipende da tutti voi. Solo insieme si possono cambiare le cose, però questa volta, se ci si muove tutti insieme, forse è possibile cambiarle e cambiarle davvero e insieme.